Sono molto felice di essere nuovo qua a Modica, a Real Modica, ho visto un gruppettino che avevo visto all'inizio delle mie visite e li ho trovati molto cresciuti, sia a livello tecnico che a livello cognitivo. Questa è una grossa soddisfazione sia per me che per la società, perché stanno lavorando nel migliore dei modi e voglio fare i complimenti speciali anche agli allenatori che stanno seguendo alla lettera tutto quello che gli si viene detto. Vi ringrazio sia personalmente che da parte della società Milan. Oggi è la quarta visita del mister, come sempre il mister in campo vede quello che facciamo, il metodo con cui lavoriamo. Sono questi gruppi che ho visto oggi, sono gruppi che già aveva visto e hanno dato dell'impegno, dell'attenzione maggiore e sempre costante attività dei ragazzi. Ogni volta, come sempre, il mister ci dà sempre delle indicazioni che poi noi useremo, sfrutteremo nel campo e dei nuovi metodi che potremmo apprendere noi e poi trasmettere ai ragazzi. Ciao!